Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video con il vostro Ryukin 05 Allora prima di iniziare in questo video vi farò vedere sia Platone che 22 A Platone abbiamo ripetuto il trattamento perché il fungo non è passato E abbiamo preso questo piccolo acquario che sono più o meno 10 litri Non voglio stressarlo troppo quindi probabilmente questo è l'ultimo bagno che farò Comunque piano piano sta guarendo e sembra anche più svelto e vitale rispetto ai giorni precedenti Intanto vi faccio vedere qui abbiamo sempre acceso il nostro aeratore Ecco 22 che come potete vedere sta molto meglio L'ho ancora divisa dagli altri pesci perché la pizzicavano Per questo aveva delle piccole ferite e ho preferito fargli un piccolo bagno di sale di circa mezz'ora Perché appunto il sale crea una barriera protettiva e aiuta i pesci a proteggersi da batteri nocivi Se il video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi Alla prossima